ciao amici volevo dire quanto l'ha votato nel video precedente è tutto vero comunque la colpa è la mia perché non è l'aspetto fisico che conta volevo dire che se magari andavo con la mia prima ragazza poi mi sbloccavo e vivevo come gli altri ecco con mi trovavo un lavoro facevo una famiglia e tutto il resto ora suonavo qualcosa o o o o o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti.